Qual è la prima cosa che ti è piaciuta di me? Ho pensato che fossi meravigliosamente a pezzi. Sei la mia anima gemella. Sei la mia anima gemella. E la cosa peggiore che hai fatto? Ho visto cose... che non avrei dovuto vedere. Eric! Shelley! Shelley! Ti prego, lo porro! Quando una persona muore, un corvo accompagna la sua anima nella terra dei morti. Ma a volte accadono eventi così terribili che l'anima non riesce a riposare. finché non rimette le cose a posto. Ti è stato donato il potere di un dio. Ma il tempo per salvarla sta terminando. Gli ucciderò tutti quanti, uno per uno. Io ti ho ucciso. Sì, l'hai fatto. Abbiamo un problema. È venuto per noi. Il primo impulso è la rabbia. Non è rabbia. È amore. guarda che sei diventato. Lo sai che l'amore è sofferenza. Non hai idea dell'inferno che ti aspetta. Ti sbagli. Invece lo so. Quante persone hai amato?